A questo punto presentiamo, e quindi vi chiedo un bel applauso, per Maximilian Lagorio. Un bel applauso. Quanti anni hai, Maximilian? Otto. Allora, Maximilian ci presenterà due brani. Il primo è Il gallo risveglio di Graziani e poi When the Sands, con Marcian Indi, di Luis Armstrong. Un bel applauso. Un bel applauso. Un bel applauso. Grazie. 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 Grazie.